Abbiamo investito con grande spirito di servizio in un territorio dove sapevamo che però c'era questo tesoretto che abbiamo oggi qui davanti da far valorizzare, valori che non sono economici ma sono valori più importanti dei valori economici perché poi le idee circolano grazie a questi valori e a questo impegno che parte dai più piccoli, noi crediamo molto in questo tipo di politica. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti